È Simone Nocentini il facente funzioni alla direzione della centrale 118 di Arezzo in attesa del concorso che si terrà in autunno per sostituire Massimo Mandò andato recentemente in pensione. Lo conferma il direttore della ASL Antonio Durso ai nostri microfoni rassicurando anche sul futuro della centrale dell'emergenza urgenza Aretina. Il bando è stato pubblicato così come avevo promesso sulla gazzetta ufficiale i termini di scadenza delle domande il 4 settembre. Crediamo che la centrale operativa 118 di Arezzo sia attrattiva per professionisti sia di questo territorio sia di altri territori e me lo auguro. Ho detto già altre volte che la centrale 118 di Arezzo è un punto fermo del Dipartimento di Emergenza e Accettazione e come tale manderà su Arezzo tutte le attività che la città di Arezzo conosce, anzi pensiamo di andare nel dopo Mandò come inevitabile che sia, dopo un grande ci sarà qualcuno che poi farà ancora meglio.